Domenica avrò l'onore e l'orgoglio di essere in Emilia, dove ci saranno in Emilia e Romagna nel weekend 7-8 settembre, questo fine settimana, più di 150 gazebo nelle piazze dell'Emilia e della Romagna per preparare il cambiamento che verrà. Grazie alla Lega, grazie a chi non si sente servo, schiavo, dipendente di poteri stranieri e chi vuole cambiare aria e mandare a casa il Partito Democratico che Bibiano, i bimbi rubati con l'inganno alle mamme e ai papà, ai fratelli e alle sorelle e ai nonni, per interesse economico, per ideologia. Ah, Bibiano, è vero, è in Emilia, il sistema Bibiano, sì. Ah, è quello con cui Di Maio ha detto che non si sarebbe mai alleato. Ah, cacchio, va bene, si fa in fretta a cambiare idea, dai. Comunque, Domenica in Emilia.